Buongiorno e benvenuti a questo punto sulla stampa mondiale. Faremo un gran tour di quello che dicono i giornali sui fatti principali della politica internazionale e a volte anche dell'economia internazionale. Le due cose comunque vanno assieme. Iniziamo con la visita di Pompeo oggi a Roma. Importante evento, però la stampa internazionale si focalizza principalmente sul ruolo del Vaticano. C'è una piccola crisi tra il segretario di Stato americano e il Vaticano a proposito della Cina. Sappiamo che l'argomento Cina è parte del dibattito molto acceso della campagna elettorale negli Stati Uniti. C'è un tentativo, o almeno questa è la sensazione alla Santa Sede, di essere utilizzata dalla presidenza Trump come strumento di campagna elettorale e quindi il Papa non vuole vedere Pompeo anche perché Pompeo aveva fatto un'eccessiva pressione, secondo il Papa, sul Vaticano nel condannare la Cina. Quindi vediamo il primo titolo, il Financial Times, che d'abitudine si occupa di questioni economiche e finanziarie. Oggi invece apre con questo. A questo titolo, a proposito della visita di Pompeo, Pompeo visiterà il Vaticano dopo le critiche sull'accordo tra il Vaticano e i Vescovi cinesi. Passiamo al secondo titolo. È un giornale, un quotidiano digitale francese, in francese ma è in più lingue, in otto lingue. Come si sofferma invece sulle discorso di Mike Pompeo, il discorso atteso di Mike Pompeo sulla libertà religiosa che dovrebbe essere tenuto oggi all'ambasciata degli Stati Uniti appresso la Santa Sede a Roma. Naturalmente Pompeo tirerà acqua al suo mulino ancora e ci si aspetta una profonda critica alla politica cinese e di riflesso alla politica vaticana. E poi ci soffermiamo su The Express, questo quotidiano che invece ci dice appunto del viaggio di Pompeo in Asia, dopo l'Europa, dopo il Mediterraneo, farà un tour asiatico sempre per parlare dello stesso problema la Cina. Quindi vediamo come l'Eurasia diventa tutt'uno praticamente con questo viaggio negli occhi delle grandi potenze come gli Stati Uniti, dal Mediterraneo fino ai mari asiatici, al mar cinese, la Cina resta al problema per gli americani. Ed ora passiamo dall'Italia dove si trova Pompeo. Ieri è stato in Grecia, ha parlato della crisi del Mediterraneo orientale, delle estrazioni di gas turche che stanno creando queste tensioni con la Grecia nella quale sono coinvolte grandi potenze come la Turchia e come la Russia e vediamo come la faccenda, questa questione è comunque legata a quello che sta succedendo un po' più in là, non troppo lontano, tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Vediamo che è proprio una zona unica di grandi tensioni internazionali. Andiamo in particolare in Azerbaijan dove ci sono delle tensioni nel Nagorno-Karabakh o meglio detto l'Alto-Karabakh con l'Armenia. Vediamo i principali giornali mondiali come affrontano questa ennesima crisi che comunque resta legata anche perché a quella del Mediterraneo orientale lo stesso Pompeo si è espresso, viaggiando in Grecia tra l'Italia e la Grecia, si è espresso anche sulla crisi nell'Alto-Karabakh invitando le parti a cessate fuoco. Le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha subito eseguito quanto richiesto dal capo delle Nazioni Unite, il portoghese Guterres, ed ha subito chiamato le parti a un cessate il fuoco immediato e ha delle profonde discussioni. Vediamo la Suddeutsche Zeitung tedesca, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiede un cessate il fuoco per quanto riguarda i combattimenti nell'Alto-Karabakh. Passiamo a Comersant, un giornale russo di area verrebbe definita liberal-democratica o liberal, per chi mastica l'inglese, Voinado Turetskovo Kansa. La citazione quasi seliniana, guerra fino al fondo della Turchia. Un gioco di parole, comunque qua dice nel Karabakh si combatte e la Turchia ne è comunque coinvolta. Quindi la Russia cerca una certa responsabilità di Ankara. Anche se Putin si è espresso in un modo molto diplomatico e ha cercato subito un contatto con la sponda turca per calmare le acque. Perché tutti dicono che i turchi stanno appoggiando più o meno attivamente l'Azerbaijan. C'è addirittura chi parla di coinvolgimento militare diretto della Turchia in Azerbaijan. Si sono visti gli F-16 turchi, ma queste naturalmente sono quelle voci che si rincorrono nei combattimenti. Sta di fatto che invece per la Russia è un po' più complicata. Perché ha degli accordi militari con l'Armenia, addirittura ha una base militare in Armenia, ma allo stesso tempo ha delle ottime relazioni, soprattutto sul piano personale con l'Azerbaijan. Putin è molto vicino ad esempio alla famiglia Liev, che è la dinastia regnante del Presidente in Azerbaijan. Passiamo a quest'altro giornale, Business Insider, e ci spiega che è una guerra che dura da decenni ed è legata a un mancato rispetto da entrambe le parti in un certo senso degli accordi raggiunti nel 1994 per un cessato il fuoco, quando la guerra nel Karabakh era iniziata tra Armenia e Azerbaijan per questa exclave armena, o enclave a zera, era già cominciata ai tempi dell'Unione Sovietica, verso il 1988, quando l'Unione Sovietica era già in declino. Anche il quotidiano francese Le Monde affronta la questione dell'Alto Karabakh. Ricordiamo che oltretutto la Francia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dice che l'Alto Karabakh, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, chiede uno stop immediato dei combattimenti. Le tensioni nell'Alto Karabakh riguardano molto anche l'Unione Europea, è molto preoccupata, fa parte della politica di vicinato, questa zona, e a volte ci sono delle frizioni, sempre con gli stessi attori, gli attori che sono nel Mediterraneo orientale, lo ricordiamo, la Turchia e la Russia. Anche in questo caso ci sono queste frizioni. Si fanno anche molti affari, l'oggetto più o meno è sempre lo stesso, gas, petrolio, gas, petrolio. L'Azerbaijan è un grossissimo produttore di petrolio e fornitore di energia, anche per l'Unione Europea.